Hola, io sono Marcus Crohn e signore e signori bentornati nella Spacecraft Papparapà, nell'ultima puntata abbiamo cercato di fare le cose col diamantini col diamantone e se non sbaglio ho aumentato la produzione di diamanti grazie a questo fregnaccio qua vieni giù, vieni giù, grazie a tutto questo bellissimo coso che adesso ho dovuto sistemare per bloccarlo quando voglio altrimenti scendiamo troppo con l'energia purtroppo l'energia è un problema ma fortunatamente il vostro Marcus Crohn ha carpito i misteri di questo pack perché mi ero detto ma non posso andare avanti a duplicare i generatori quindi prima o poi me la prenderò nel culo e invece no, c'è una mod bellissima bellissima che ho testato in creativa e che forse faremo nella prossima puntata, non in questa perché in questa mi sono totalmente scordato cosa volevo fare ah, vi dovevo far vedere un'altra modifica intanto che il mio cervello va a recuperare questa informazione ma dubito che ce la farà oh mio dio ah, mi sono fatto questo regà vedete mi allontano forse fino a quando ce l'ho nell'inventario vabbè, questo fregnetto ti fa sentire i rumori e che credo siano davvero molto, molto, molto alti voi ditemi se vi piace vedete, va tot, tot, tot altrimenti li togliamo la modifica che volevo dirvi forse non ve l'avevo detta non mi ricordo se ve l'avevo detta o se non ve l'avevo detto però va bene è che qui dentro faccio arrivare la cellulosa cellulosa che ottengo dagli alberi quindi dalla farm di alberi OAC OAC 5654 e l'ho fatto in modo e in maniera che ne consumi molto di meno di quanto ne consumerebbe se non avessi fatto quella piccola cortezza ovvero ho messo i cavi che portano mi energia e andiamo a vedere quanto OAC Stavo 7000 Purtroppo ancora scende Dovremmo fare una farpa più bellissima O non si sa Ecco cosa volevo fare oggi Oggi volevo fare Volevo finire di fare i politool Perché? Perché ho lasciato andare il mondo Mentre renderizzavo circa 30 video Considerate che ci vogliono 20 minuti a renderizzazione Quindi immaginate per quanto tempo è rimasto acceso questo mondo Tra l'altro ho spostato il corri L'ho messo anche sul venere Qui è finito tutto? Ha finito tuttissimo? Perché? Perché ci serviranno dei materiali che vengono soltanto da venere Soltanto da mercurio Soltanto da tutte cose Ma allora è questo il giorno Diamanti Signore e signori Ci abbiamo un fracco di diamanti Quindi anzi direi che possiamo fare così Buttiamoli dentro Bam 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 Vi ricordate quanto ci mancava per caso? Non me lo ricordo Oh davvero ovvio signore Quindi andiamo a buttare dentro Ce ne da 24 A noi ce ne servivano Intanto vediamo il politool Politool ce ne abbiamo 6 Quindi ce ne servono Altri Uh no 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 Altri 5 stack forse Vediamo un po' di nanotubes Questa l'abbiamo fatto nella puntata precedente Quindi se non l'avete visto Se non sapete di che cacchio stiamo parlando Andate a vederla Ci mancano soltanto pochissimi nanotubini Dovrebbero bastare così? Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Dopo tanto sacrificio Andiamo a prendere il nostro solar pannellino Non c'è Forse l'ho messo sopra? Era buio e non si vedeva Buscio da culo Fessa pareva Dimmi che sei qui Perché se ho perso il solar pannellino Sono nella cacchissima Non c'è Ah ne ho aggiunti eh Non c'è regà No dove cazzo si è cacciato? No Scusa Solar Ma non c'è Dov'è finito? Solar panel Era questo? Sì Sì No Perché? Dov'è? No Sto rosicato Ho fatto pure qui Una stazione d'uscita Ma I cazzo di meteoriti Mi vogliono male E me la sfondano ogni volta Maledetti bastardi Infingardi Ragazzi Dov'è? Il pannellozzo solare No Sto rosicato Sto rosicato Tantissimissimo Pannellozzo solare Pannellozzo solare No Andiamo un attimo a vedere Sulla stazione spaziale Ma dubito di avercelo rimesso Marte Venere Stazione Ed energia Ti prego Libby che l'ho lasciato qui L'ho cagato qui Per favore È qui? Non mi pare di averlo visto No Non c'è No regà Ma a me so Come cazzo è possibile Che sia successa una cosa del genere? Come Diavolo È Possibile Shit Shit Shitissimo Oh mio dio la sveglia Devo registrar Grazie sveglia Che mi aiuti A ricordarvi che devo registrare Quando sto registrando Perché mi sono svegliato tre ore prima Vabbè Perché Quando posso dormire non dormo Allora Secondo me L'ho buttato qui Posso essere così stronzo? Vabbè facciamo così ragazzi Ce lo riprendiamo Dove stavamo Quello che stavamo E Se Lo ritroviamo Lo butto Quest book Facciamo così Andiamo a vedere a quale stavamo Perché non me lo ricordo Manco se ti ammazzi More power Stavamo a Il solo al paro è livello 5 No Quello livello 5 Dobbiamo fare No Ci avevamo questo qui Il solo al paro è livello 4 Eccolo qua Che se non sbaglio si fa Con le nether star Perfetto Invece questo qui Si fa Con i poli tool Quindi Bim 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 Barabim Bim 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 Barabim Bim 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 Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Ce Ce l'abbiamo Sinceramente Io mi sento di aver perso un sacco di cose Ad esempio Volevo fare La spada Vi ricordate C'hiamo i lingotti Gli unstable lingots Questi qua Non ci stanno più Bah Va bene Allora intanto andiamo a prendere la reward di questo Ehm Climiamo Una bag random Speriamo che sia buona Ti prego Bim Un'altra magnum torch Super schifo Non ci fa La magnum torch Però preferivo qualcosa di diverso Di tipio Che ne so Boh La mettiamo qui La mia amica magnum torch E andiamo a vedere come si fa Il livello superiore Perché questo qui già produce 1000 RF Che risolverebbe il nostro problema di 200 di buffo in più In giù 1000 RF non sono male Ma Non sono male Ma 2000 sono davvero Molto better Quindi Solar panels Vuole delle stelle Di qualsiasi tipo Se io faccio così E cerco star Ne ho due E queste qui Aspetta Queste danno 80 RF Chi te se in cura Magica bula Eh però Questi danno 2 bilioni Però non la voglio Lascia il fade azzurra Ragazzi Ci abbiamo le stelle Precise precise Andiamo a vedere Non ce lo fa Perché non me lo fai No Any tape Dice Vuole Vuole di qualsiasi Uh Non vuole Lascia il fade Ok Heart Heart Non ce l'abbiamo Dobbiamo fare Un Cerchiamo stare Facciamo prima Un heart of stars Eccolo qua Si fa così Ci manca Ci manca Ci manca Dove è finito Pronto 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 La polvere di diamante E la gold dust Quindi Diamante No Non lo vedo Però il gold Eccolo qui Il diamante Facciamo così E lo facciamo A ritornare diamantoso Così ci scala Le classifiche Della Nei Anzi Della Della Applied Ok Allora No Mia piccola Glinder Potrebbe anche essere così Che è volato via Il solar panel Però va bene Buttiamo dentro questo Sì Molto bene Grazie Gentilissimo Figurati Arrivederci Grazie Perfetto E buttiamo dentro I diamantolli Che non ci li fa buttare Dentro Non so perché Ma brutto Bacarospo Come cazzo si fanno Dove sta Eccolo Posso sintetizzarlo Con i nanotube Ok Ok Zoom Quanti ne volevi Oh eh Cosette risparmiate Tre Uno Due Tre Perfetto Dankeschön Ma veri Veri Thank you Duque Ah Questo è il cuore Della stella Signori E se non vado a razio Fuori Abbiamo fatto una cosa Di lava Bruttissima Che serviva un cacchio Praticamente Che però Però forse faceva Il caso nostro Quindi scendiamo un attimo E cerchiamo qualcosa Che esplode Facciamo una tnt Va Tnt Chissà se prende fuoco La tnt Attenzione Che qui c'è una Venusian Non c'ho quello Va bene Però Flint è stile Non credo che Flint Oddio Oddio Che cazzo sta succedendo Mi è andata a tutto schermo Minecraft Io non gioco mai a tutto schermo Ah è gigantesco Va bene Siete bene Quindi Contineremo così Flint Ma perché l'ho scritto qui Flint Mamma mau Mamma tua Mamma sua Ok Era laggiù Più veloce della luce Vediamo un po' Sì Era là Era là Era là Anche se servirebbe il fuego Servirebbe il fuego Vediamo un po' Se la tnt ci aiuta Oppure no Chissà che succede Si spegne subito Vabbè Facciamo diventare una stella Soltanto Stupida Olè Che ci ha dato Una stella Incredibile Ci ha dato una stellina No Un bilione di RF A 16 A 160 RF Al secondo Su Tic Cazzo Questa era buona Era buonissima Guardate il nostro Posto distrutto Smandrappato proprio Lezzo Lezzo Vediamo un po' Qui che succede Ah Avevo mandato tutto dentro È vero Come stai in questa spade C'è l'hai Però mi sa che sto troppo lontano Per far spawnare i zombie I mostri È un peccato È un peccato Ok 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 I ragazzotti mi hanno chiesto Ma quando è che userai Farei il razzo tier 3 Presto Quando avremo Completato diciamo La nostra base E non ci sarà nient'altro Da fare Aio Molto bene Ok Quanto è grosso Lo schermo così Non sono abituato Ok Andiamo quindi a fare Speriamo che me lo prenda Non me lo prendi Perché non me lo prendi Tata Tata Basta Once Chose Trise Catorze Vediamo un po' Mamma mamma Ma Pannello solare Livello 5 Spettacolo ragazzi Spettacolarissimissimissimissimissimissimissimo Padabim Ci dà Uh Ci dà i semetti Grande I nuggets Delle extra utilities Vediamo questa qui Che cos'è Legendarity Prego dammi Prego dammi qualcosa di buono Ma che schifo Ma poi prima Prima no Adesso Cioè sei davvero 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 uno struttosto Ah Sta scendendo Presto Andiamo a puttizzarla Però prima facciamo venire giorno 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 Una cosa È per sempre Non è come le altre persone Che perdono e basta Io non la ritrovo più Non lo so perché Quindi Se dovessi ritrovarla Sarebbe un gran bucio De culo E la butteremo Ok Leggiorno Andiamo Di qua Opela Prendiamo Energy Quelli boni Boni Regà Boni Così va Acquisti E a sto point of situation Non li mettiamo qui Ma lo mettiamo direttamente Di vicino a testo Quanta energia Mi acchiappi tu Sarei curioso di saperlo Vediamo un po' Mi dai un Più 500 D'accordo D'accordo Tu dici più 500 E io rilancio Di Do sta È finita Eccola No No Adesso è configurata No Più 500 Ok E io rilancio di 4000 Mamma Perché Perché così poco Perché così poco Uuu Davvero L'efficienza 70% Ma ragazzi Noi possiamo fare Anche gli upgrade Di questa Che prima erano Effettivamente Inutilini Però adesso 8 cosi che aumentano Del 5% l'una Su 4000 RF E il 5% È come c'è Sostanzioso Prima non lo era Guardate qua Si sta caricando Non sono proprio 4000 Perché È mattino Presto In più Lui si carica Fino a tot A 100.000 E poi E bocca dentro Interessante Interessante Già 3 milioni Quindi noi possiamo fare Così Oddio Possiamo pure attaccarlo Qui direttamente E gli diciamo A ciccio pelato Output Guardate come sta Sussiando L'immortaccio Davvero De chi in to Dice Cama marzata La voce Buongiorno Insert Di qua Così non ci stanno Problems Andiamo Finiamo la montata Andando a guardare Come stiamo messi Guardate lì Che mi sbuca casa Come stiamo qui Devo trovo Dove lo fa Vi rompe tutto Il cazzo Da questo E fa comunque Partire il razzo Guardate che carino Più 3 mila Signori Siamo a pace Con l'energia Alla prossima puntata E che la barba Sia con voi